benvenuti per voci olimpiche olimpia the pitch abbiamo ospite eh Mattia Gaspari eh atleta olimpico prossimo atleta olimpico oramai eh per lo scheleton giusto Mattia? Sì esatto esatto speriamo olimpico a breve esatto 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 atleta atleta olimpico eh come stai Mattia? Ma io bene dai non c'è male ehm gli allenamenti proseguono? Sì dai proseguono abbastanza bene adesso questa è l'ultima settimana di di gare vera e propria eh quindi non è una pista che a me fa impazzire questa dove sono adesso però comunque ho trovato un buon feeling anche se era un po' di anni che non ci venivo però dai sta andando bene non mi posso lamentare. Come ti senti? Ti senti in forma? Ma sì dai eh pensavo di essere meno in forma in realtà in realtà sono abbastanza in forma quindi bene direi assolutamente ci mancherebbe altro e no no sta tutto procedendo per il meglio adesso poi dopo questa settimana avremo altre due settimane di per finalizzare quello che poi sarà la gara olimpica e questo è. Senti Mattia io volevo prenderla un pochino alla larga ehm ho letto da qualche parte che volevi fare il pilota daerei. Sì esatto. E sei finito a fare scheleton come come vi devi raccontare il percorso perché è alquanto singolare. No beh diciamo che la passione del volo è una passione che ho battutora che mi piace comunque vedere cose riguardanti aerei più elicotteri in realtà che aerei se devo essere sincero. E da bambino ho sempre voluto fare quello poi però per altre motivazioni non ho non ho intrapreso questa questa carriera però in compenso sono diventato un pilota di scheleton quindi magari non volo ma scivolo e non ho una cloche ma guido col mio corpo quindi dai va bene così. Come sei arrivato allo scheleton? Qual è stato l'input? Allora beh io sono di Cortina quindi di Scheleton non è che si parlasse poi più di tanto ma più il Bob perché chiaramente Cortina speriamo ritorni essere la capitale italiana del Bob. Esatto ne parleremo più tardi e un giorno sono venuti a scuola a fare del definiamolo reclutamento però in realtà sono venuti a spiegarci un po' quella che è la disciplina con le varie spaccettature eccetera allora io ho da subito diciamo preso questa questa cosa come un'opportunità quindi mi sono buttato nel questo in questo mondo ho fatto il primo corso piloti a Cesana da lì mi è piaciuto fino dal primo giro ed eccomi qua senti lo scheleton è diverso dallo slittino vero ci dici le differenze? Beh allora la cosa che cambia soprattutto è la posizione quindi scheleton è testa avanti pancia sotto slittino invece è testa dietro piedi avanti cambia drasticamente il mezzo perché il mezzo è costruito in una maniera completamente diversa e anche la guida è fatta in maniera completamente diversa poi lo slittino diciamo è un po' più pericoloso perché hai dei pattini sì perché hai dei pattini che sono praticamente delle lame che tagliano molto il ghiaccio quindi riesci andare a dare molta direzione quindi quando tu sei nelle curve riesci a modulare molto di più quelle che sono le forze G che si creano quindi quando crei queste onde riesci a modularle un po' di più però appunto avendo più grip se sbagli rischi di sbagliare sbagliare completamente traiettoria e di farti anche del male da noi invece sei tra virgolette un po' più più protetto perché comunque sei anche un po' più basso rispetto allo slittino e appunto avendo dei pattini che sono inarquati quindi sono delle delle mezze lune con una fresatura da da metà in poi hai comunque una direzione è importantissima anche lì la fresatura eccetera lasciamo perdere sono cose un po' un po' tanto tecniche però è più tra virgolette facile non sbagliare tra virgolette definiamola così ecco però non si sbaglia anche da noi anche tanto però rischia appunto di farti meno male perché poi sei tra virgolette per terra quindi se ti rovesci o succede qualcosa sei sei là come cadere da dieci centimetri o da un metro è lo stesso esempio so che non ti dirò una cosa originalissima mi rendo conto però mi viene spontanea perché ho visto un po' di gare e fa veramente paura vedervi venire giù a testa in avanti eh ma in realtà no è sempre una questione di abitudine se uno è abituato a un determinato tipo di cosa certamente non è una posizione facile perché comunque bisogna anche essere tra virgolette comodi in quella posizione anche per la spinta soprattutto perché sembra che uno abbia perso una lente a contatto la deva raccogliere per terra però si deve non è proprio per tutti però non fa assolutamente paura cioè quello no perché poi è uno degli sport probabilmente più sicuri a meno percentuali di infortuni di qualsiasi altro sport invernale quindi sì nonostante si ha a che fare con gravità e velocità perché ovviamente quando c'è il connubio di queste due parole bisogna sempre stare attenti senti veniamo a alla tua carriera allora 2016 2017 ottimi piazzamenti hai ben figurato in diverse gare e poi proprio pochi mesi da dall'olimpiade 2018 l'olimpiade invernale del 2018 eh la rottura del tendine d'Achille eh ci racconti come è successo allora io mi stavo allenando in una pista in Germania Winterberg e da lì a breve sarei dovuto partire per affrontare la la stagione olimpica volare in Canada e purtroppo nell'ultima nell'ultima discesa di allenamento della settimana nel saltare sulla slitta mi si è rotto il tendine d'Achille poi comunque sono caduto sulla mia slitta ho comunque effettuato tutto il giro fino all'arrivo però già durante la discesa avevo capito che non potevo c'era qualcosa che non andava di grave perché comunque non riuscivo proprio a muovere il piede non riuscivo a muoverlo non riuscivo a dargli un input ecco un segnale muscolare e quindi purtroppo la mia la mia stagione si è dovuta fermare già già prima di partire quindi non è stato bellissimo a parte il il dolore fisico immagino che anche il dolore di dover saltare l'olimpiade che oramai era lì dove deve essere stata una brutta botta è abbastanza sì perché diciamo dover rimanere a casa e guardare i tuoi colleghi che gareggiano e tu invece sei a casa appunto in stampelle e fai fatica a camminare a zoppicare non è non è stato per niente bello scusami avevi volevi aggiungere qualcosa no 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 vai vai no volevo chiederti siccome la rottura del tendine d'Achille solitamente è un infortunio molto legato è un infortunio da stress solitamente è una parte molto sollecitata nello scheletro forse nella spinta in realtà sì perché alla fine la posizione è appunto scomoda come dicevo prima cioè scomoda tra virgolette non è una posizione magari naturale come la corsa normale ma sei comunque piegato in avanti appunto per spingere la slitta ti direi di sì che viene sollecitata ma come una corsa normale quindi magari leggermente di più perché comunque spingi su ghiaccio quindi chiaramente il ghiaccio non è una superficie che ti aiuta nelle vibrazioni eccetera però comunque cioè lo facevo da sette anni quella con gesto lì penso di essere l'unico che se lo sia rotto nel nello scheleton è a memoria si nel bob capita già più spesso però il bob alla fine di spingere un mezzo che pesa 170 kg è già più più facile io ne spingo uno che ne ha presa 33 è già una bella differenza senti il calvario però è stato piuttosto lungo perché ci sono voluti quasi due anni per tornare tornare a gareggiare giusto esatto perché poi a distanza di un anno purtroppo si è visto che c'era un'altra lesione più in basso e quindi ho dovuto rioperarmi di nuovo quindi sì quindi due operazioni due operazioni sì e in un'intervista che ho letto qualche tempo fa dicevi che non sei convinto di essere tornato al cento per cento cioè secondo te non sei tornato quello di prima senti senti ancora che è così questa cosa per il momento sì perché comunque due anni di inattività sono tantissimi quindi tornare ad alti livelli però nel dio sono tornato in coppa del mondo sto facendo anche le mie le mie spinte discrete quindi non sono tra i primi chiaramente però diciamo che me la batto senza nessun problema tra la dipende anche poi da da pista a delle volte faccio ho fatto anche la dodicesima spinta quest'anno quindi sì non posso assolutamente lamentarmi però comunque sento che c'è ancora una differenza di livelli di forza tra un polpaccio e l'altro perché comunque non sono ancora tornato ad avere quella forza lì però penso sia anche una cosa normale a meno qualsiasi medico che mi ha visitato anche quelli di chirurghi che mi hanno operato mi hanno detto guarda già avevi il 10 per cento di tornare a fare l'atleta quindi sì non dico accontentati però però comunque sicuramente ci vorrà ancora un anno un anno e mezzo di lavoro per poter tornare a un 90 95 per cento di di complete di forza generale ecco certo tempo tu non sei tornato al 100 per cento però i risultati hanno ricominciato a venire perché so che ultimamente hai fatto molto bene se non sbaglio hai portato a casa un bronzo se non sbaglio giusto beh sì quello è successo nel 2000 pre covid ormai si può dire ormai funziona così sì sì è proprio la stagione del mio ritorno che in coppia con valentina margaglio mi ha regalato questo bronzo storico perché alla fine nessuno l'aveva ancora fatto quindi quindi sì mi ha dato moltissima carica ecco nel tuo sport è molto importante come dicevamo prima la la spinta in quanto corri 100 metri no io sono scarso nei 100 metri davvero ho sempre saputo che chi pratica bob slittino scheletto mancati velocisti ho sentito sempre dire certi sì nel mio caso ad esempio no no nel senso che alla fine ad esempio in squadra noi abbiamo una ragazza valentina margaglio quella che ha fatto medaglia come mondiali che comunque lei nella corsa è molto molto forte infatti è una delle migliori partenti al mondo adesso però ad esempio io non sono così così forte poi sicuramente dopo questo infortunio non penso proprio di essere forte nei 100 però ad esempio nei 30 metri riesco a ad essere semidecente se dobbiamo paragonare l'atletica anzi un livello forse medio basso anzi direi però alla fine a me della corsa interessa ben poco perché comunque io devo spingere una slitta su ghiaccio in discesa al freddo quindi in realtà la specificità è quello che conta ma se non è la spinta qual è il tuo punto forte beh diciamo che il mio punto forte è la guida perché alla fine lo faccio da un po di anni probabilmente di mio una sensibilità alta e molto buona quindi quella reputo la mia parte la parte migliore ecco è importante per dare direzionalità al mezzo immagino sì e non solo quello anche per creare velocità perché quando poi uno scende certo hai la spinta però comunque non è tutto perché quando tu poi spingi fai i tuoi 16 17 passi sali ti manca un altro chilometro e 200 metri da fare che quindi puoi anche perdere tutto dopo due curve quindi sì quella parte lì è una parte che mi si dice molto e appunto avere delle abilità di guida magari buone ti permette di poter recuperare quello che poi magari è il tuo svantaggio in partenza quindi magari uno parte con la ventiquattresima spinta e conclude decimo quindi quello chiaramente vuol dire che nella fase di guida considerando anche a livello che nel senso che a livello di materiali uno sia abbia appunto dei materiali buoni ottimi riesca a fare a fare la differenza poi nel guidato prima mi dicevi che ti stai allenando su una pista che non ti piace molto quali sono le caratteristiche per quanto riguarda una pista che ti si addicono di più a me piacciono le piste molto difficili dove ci sono tante forze g dei passaggi magari è molto veloci tra una curva e l'altra delle delle curve magari un po tecniche a me piacciono molto di più quelle quindi al momento questa è una pista abbastanza facile ecco dove non ci sono dei grossi elementi esatto esatto non ci sono grossi elementi tecnici quindi allo stesso tempo è bello perché qui è l'unica pista naturale al mondo quindi ogni anno viene preso della neve viene fatta ghiacciare viene costruito la pista e la sensazione che ha in questa pista qua non ce l'è da nessun'altra parte perché qui non c'è non c'è rumore praticamente quindi quando tu scendi senti proprio questo civilo della velocità poi comunque vai molto veloce perché alla fine ieri abbiamo fatto ho fatto 136 137 più o meno quindi è bella quella quella sensazione di velocità certo certo so che nel frattempo sei già stato a pechino a provare la pista giusto esattamente impressione ma la pista è non è magari difficilissima però allo stesso tempo è difficile arrivare giù velocemente nel senso che ci è una pista molto lunga è una delle più lunghe al mondo la più lunga al mondo è questa qui di st morizio però quella probabilmente la seconda più lunga al mondo quindi se uno fa un errore in quella pista lì paga paga di più nel senso che rallenta di più quindi sicuramente se uno fa un errore lì invece che costargli tot gli costa magari il doppio poi comunque ha un sacco di elementi dove hai dei pezzi dove vai molto in discesa quindi guadagni molta velocità alternati a dei pezzi di salita dove comunque non ti può permettere di sbagliare perché sennò vai a rallentare ea perdere quello che magari è il tuo vantaggio il tuo guadagno di molto e hai delle caratteristiche che non si sono mai viste ad esempio c'è questa questo c'è rettilineo è in senso è una la pista fa così e curva il raggio di curvatura non è tantissimo con addirittura un dos una gobba ecco quindi quello un elemento che non c'è mai stato quindi non hai tra virgolette la curva hai la pista che così in contropendenza comunque vai veloce lì perché alla fine fai più di 120 anche più di 125 e quindi è una cosa strana che non si è mai vista in altre piste quindi c'è quello bello e puoi perdere appunto tantissimo perché se tu inizi andare a sbattere come come un flipper sei fermo senti come sarà la questione immagino che sarà come per per tokyo immagino niente pubblico neanche a pechino che tu sappia sarà così penso proprio di sì perché non hanno voluto appunto poter cioè di yes gli esterni cioè da chi viene fuori della cina per vedere le gare non non sono ammessi solo chi è già magari in cina da tot tempo può venire a vederle quello sì sarai da solo non ci saranno poi familiari al seguito no 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 sarò sarò da solo se di quali saranno i tuoi avversari a pechino eh oddio ce n'è un bel po ce ne sono tanti ma per come tanti magari non non lo diventano perché comunque alle olimpiadi cioè una gara di coppa del mondo si ricompone di due manche olimpiadi e mondiali quattro ok quindi avendo non avendo la possibilità di sbagliare tanto soprattutto su una pista così e dovendo fare quattro manche tutte quattro fatte al massimo delle possibilità diciamo che vince chi sbaglia meno perché quattro manche poi sono tante più una notte nel mezzo quindi una notte nel mezzo può cambiare completamente le carte quindi c'è la gara è abbastanza aperta diciamo quale quale obiettivo speri di raggiungere una medaglia è possibile allora la medaglia non credo perché comunque i cinesi hanno avuto cioè in questo brutto periodo che stiamo passando quindi di covid la loro fortuna è stata che appunto tutti stessero a casa propria però loro hanno avuto la possibilità di avere la pista che ospiterà le olimpiadi a casa loro e quindi sono scesi già migliaia di volte quindi a noi ci viene data la possibilità di fare dalle 40 alle 50 discese massime e loro le hanno superate di gran lunga veramente parliamo di migliaia di discese quindi conoscendo la pista di casa nei minimi particolari con conoscendo qualsiasi minima accortezza chiaramente la possono fare da padroni perché comunque hanno avuto questo questo vantaggio pazzesco ma è strano però che sia consentito di provare così tanto la pista dove si svolgeranno gli olimpiadi cioè è un vantaggio troppo grande per chi gioca in casa no eh sì infatti dovrebbero cambiare questa speriamo non lo cambino la prossima avendoci a casa sia chiaro avendocela a 200 metri da casa spero che non la cambino questa regola perché effettivamente se noi andiamo a vedere da quando lo scheleton è stato reintrodotto nel programma olimpico a parte un'edizione che purtroppo è stata quella di torino causa ritardi di anche di progettazione perché è stata progettata male una curva quindi è stata dovuta rifare eccetera ma ha sempre vinto all'atleta di casa quindi speriamo che anche tra quattro anni sia così la storia esatto esatto perché tra quattro anni come dicevamo poco fa ci sarà milano cortina olimpiadi invernali di milano cortina e giocherai in casa in pratica e il problema è che in italia al momento non c'è una pista percorribile giusto esatto c'è in realtà ce ne sono due e mezzo se vogliamo dirla tutta però non sono agibili una è a torino se non sbaglio giusto esatto e l'altra proprio cortina esattamente quella quella di cortina sarà la stessa delle olimpiadi o è un programma di costruire ma allora il progetto è di mantenere il più possibile il tracciato vecchio però con delle accortezze nel senso che al giorno d'oggi ci sono molti standard per la sicurezza non come una volta che scendevano con comunque meno chiaramente i materiali erano un po più lenti e le spinte erano un po più lente eccetera quindi adesso che si sono evoluti affrontare quella pista di sarebbe impossibile non so se si riuscirebbe a scendere veramente adesso con i materiali di adesso quindi sicuramente da metà in poi la pista deve essere rivista sarebbe pericolosa molto sì molto pericolosa se arriverebbero delle velocità troppo alte e si riusci uno rischierebbe veramente di farsi tanto male poi andresti ad avere magari troppe g perché comunque nel nostro sport puoi avere determinati g per tot secondi adesso vado a me ma non so se sono 5 g per massimo due secondi circa e già la pista vecchia era il limite che arrivavi a 6 per o anche di più però per meno secondi magari a quel secondo però era valido ecco ma adesso appunto da metà in poi dovrebbero rifarla con gli standard di sicurezza di adesso quindi sicuramente dovrebbero andare a cambiare delle curve per renderla tra virgolette un po più lenta definiamola così la tua famiglia parliamo della tua famiglia so che sia tua mamma che tua sorella sono già state azzurne giusto esattamente in quali sport allora mia madre c'è alpino invece mia sorella snowboard parallelo snowboard parallelo caspita e hanno vinto delle gare perdonami ma sono completamente allora mia madre mia madre sì adesso vado un po' a memoria ma sicuramente campionati italiani ne ha vinti e lei faceva discipline veloci chiaramente perché se no sicuramente qualche gara di coppa europa l'ha portata a casa anche lei ha fatto delle partecipazioni in coppa del mondo mia sorella anche ha vinto sicuramente qualche campionato italiano anche a livello junior e invece nelle gare di coppa del mondo purtroppo non è andata magari così bene però comunque ha portato a casa ottimi risultati ecco la passione per la montagna mi racconti con la passione per la montagna si nasce o si può acquisire la passione per la montagna allora questa è una bella domanda perché comunque la montagna è una cosa abbastanza particolare nel senso che uno ci deve vivere in montagna per capire come si non come si vive però come ci si ci si proietta nel nella natura e col vivere in montagna che comunque è molto diverso da vivere magari in pianura o in una città grande quindi sicuramente la passione per la montagna magari deve essere non dico aiutata ovvero ad esempio quando magari i genitori portano i bambini in montagna uno si può tra virgolette innamorare della montagna appunto perché è un ambiente molto diverso merita comunque il suo rispetto perché alla fine la montagna si presume che sia piena di verde piena di di natura e quindi quella a quello serve un determinato rispetto ci sono non dico delle regole però un minimo di buon costume che è diverso magari un po dalla dalla città quindi sicuramente quella o magari uno ci nasce appunto uno è un po indirizzato verso quello che era la montagna ho letto che tra i tuoi hobby ci sono le imitazioni e i dialetti è vero esatto è vero è vero faccio l'imitazione dai no beh al momento non mi viene ma non lo so magari anche solo di di dialetti magari quando sento qualcuno parlare che mi fa che mi fa ridere ad esempio il mio allenatore attuale segue anche una ragazza brasiliana no quindi adesso mi sto dilettando col portoghese quindi ogni giorno cerco di inserire qualche parola di portoghese con con l'accento e e quindi cerco di di inserirmi in quello che è il linguaggio portoghese quindi sì senti ma a parte le imitazioni cosa ti piace fare quando quando non gareggi quando non ti alleni beh cucinare quello sì eh infatti mi ricordo esatto se a me piace molto cucinare quello sì ma anche lì vado di solito sulle cose un po difficili se devo essere sincero quest'ultimo anno ho iniziato ad avere un po più di passione per i lievitati quindi pizze focacce sì 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 mi do un po su su quello per chiudere voglio citare una tua frase che mi ha colpito molto hai detto lo scheleton è esattamente come dovrebbe essere lo sport che cosa volevi dire ma quando l'ho detto no nel senso che probabilmente probabilmente l'ho detto perché alla fine ti spiego ti spiego l'ho letto raccontavi di questo di questo aneddoto in cui una tua compagna di squadra forse non mi ricordo aveva aveva perso il laccetto del casco e l'allenatore di un altro l'allenatore di un'altra squadra per il fair play esatto esatto perché alla fine lo scheleton è esattamente come dovrebbe essere lo sport esatto perché alla fine ci si aiuta tra tra di noi cioè se c'è qualche problema magari uno non ha una vite o appunto di si rompe qualcosa si cerca sempre di dargli una mano o magari se si vede qualcuno in difficoltà cerca di dargli una mano non so per quanto riguarda la guiglia o i materiali o qualsiasi cosa annesso a al mondo ecco cioè è quasi una famiglia tra virgolette molto molto allargata quindi c'è c'è molto molto fair play perché poi alla fine quando uno va a gareggiare alla fine non è che compete con cioè si compete col suo diretto avversario però in realtà compete con con la pista perché alla fine vince chi scende più veloce quindi se uno sbaglia sono affari suoi ecco quindi non è che può prendersela con l'altro perché per vari motivi chiaramente l'altro è andato più veloce o non si può fare niente. Senti in che in che giorni e in quali orari potremmo vederti a pechino? Allora al momento non mi ricordo ancora l'orario devo essere sincero perché faccio ancora un po' di confusione con il fuso orario però dovrebbe essere circa la fine della seconda settimana di febbraio quindi dovrebbe essere dal 15 in poi mi pare vado vado a memoria non mi ricordo precisissimamente. Saremo saremo a fare tutti il tifo per te naturalmente ci mancherebbe altro assolutamente un grandissimo in bocca in bocca al lupo forza mattia grazie e speriamo di riaverti qua presto magari magari con una medaglia al collo che ne sai magari con una medaglia al collo non lo potremo mai sapere basta aspettare ancora tre settimane lo scopriremo per voci olimpiche era mattia gaspari rivederci mattia grazie mille grazie a te ciao a tutti